Intanto Di Maio, è ovvio che ci siano i masagnelli improvvisati che si ha, poi se Barbara Lezzi è il masagnello più importante in questo momento sull'IVA e sul resto, non lo so. Ma è normale che in un movimento che tiene insieme anime totalmente diverse, il rischio di scoppiare possa arrivare, anche perché lì hanno regole molto severe, molto precise. Ma Di Maio controlla i suoi gruppi parlamentari? Per me Di Maio, giovane com'è, ha fatto fin troppo tenere insieme un movimento che non è più quello da cui è partito, perché è tutt'altro oggi. Quindi io su Di Maio, al di là del piacere o non piacere, il signor Di Maio, come si muove, da un punto di vista di uomo che ha tenuto la macchina del movimento a mille, sempre al centro, sempre sotto pressione, eccetera, è ovvio che logora chiunque. Beh, lui al momento sta lì, però si aprono infinite possibilità di tensioni. Ma questi non sono problemi che si possono...